Il Gela continua a rimandare la vittoria con Fofo Ammirata in panchina, soltanto 1-0-0 contro la Juve Stabia, lo stadio Presti di Gela ma va subito detto che la formazione di Fofo Ammirata ha provato a vincere la gara, fu giocando in un campo pesantissimo, ha piovuto per tutta la mattinata in città e il campo non ha consentito ai giocatori di poter giocare una partita piacevole, davanti a un migliaio di spettatori, 25 arrivati da Castellammare di Stabia, la formazione di casa non ha potuto schierare Scopelliti per una contrattura, oltre allo squalificato Danna, mentre la Juve Stabia ha giocato in formazione tipo con il 3-4-3 con l'ex Fabbro al centro della difesa. La gara è stata avara di emozioni ma il Gela ha giocato con maggiore intensità, malgrado il campo pesantissimo per sporcare il taccuino, corre a tendere il 25esimo quando Carbonaro, ben servito da Aliperta, si è visto parare la sua conclusione, era una buona azione. Al 39esimo c'è approvato Docente ma il suo tiro è stato rimpalato dal difensore Molinari che poi si infortuna, al suo posto entrerà Mauri. L'ultima azione, il primo tempo interessante, arriva in pieno recupero quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Kunzi, Cardinale colpisce di testa, il pallone sfiora la linea di porta. Nel secondo tempo non ci sono altre sostituzioni, si comincia con un campo ancora più pesante per la pioggia che cade più intensa ma al 22esimo c'è una buona discesa dalla sinistra di Aliperta che con un diagonale prova a centrare la porta di Colombi. Al 27esimo l'unico tiro in porta della Juve Stabia si fa per dire conclusione con Di Conso che viene però rimpallato. Al 33esimo il neo entrato Luciano Rabbeni attaccante del Gela prova a sfruttare anche un'indecisione della difesa della Juve Stabia ma viene fermato in calcio d'angolo. L'ultima opportunità per il Gela arriva al 36esimo con Docente che ci prova con un diagonale, la palla finisce a pochi metri dalla porta del portiere Colombi. Inutili gli assalti finali anche con il nuovo ingresso di Sani che dà vivacità all'attacco del Gela ma finisce 0-0 una gara stregata con il Gela che adesso deve affrontare un doppio turno esterno, Viareggio e Cosenza. L'ennesimo pareggio del Gela che sicuramente non è fortunato.